Allo stadio milanese di San Siro vedete intanto inquadrati 11 poliziotti francesi che sono in visita alla polizia italiana e sono presenti qui a San Siro. Un San Siro che per l'occasione apre il suo terzo anello. 83.000 biglietti venduti per un incasso superiore ai 3 miliardi di lire. San Siro chiuderà i battenti subito dopo questa partita perché occorre rifare il manto erboso che è in condizioni tutt'altro che buone. Grande attesa per questa seconda finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. 0-0 a Torino all'andata. Qualche veleno ancora sulla partita di oggi. Veleno derivante dalle ultime vicende del campionato ma grande entusiasmo per questa partita che vede di fronte due delle squadre più amate d'Italia. Mentre la partita ha avuto inizio. mi piace sottolineare in questa sede il senso di responsabilità e di rispetto per l'utenza dei lavoratori della linea di produzione 5 per i mondiali che pur nell'ambito dell'avvertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro assicurano il regolare svolgimento di questa nostra ripresa. Dirige la partita il signor Delia di Salerno. Le formazioni. Milan in campo con Giovanni Galli, Tassotti e Costa Curta. Colombo, Filippo Galli e Baresi. Donadoni, Reikard, Van Basten, Evani, Massaro. C'è un calcio di punizione per il Milan. Fifo infernale. Va alla battuta Donadoni. Palla in area all'uscita di Tacconi che blocca Juventus. In campo con Tacconi, Napoli e De Agostini. Galia, Bruno e Bonetti, Aleinicov, Barros, Casiraghi, Marocchi e Schillaci. È una giornata calda. C'è un bel sole dopo tante giornate di pioggia. Grandissima attesa e tifo naturalmente per questa gara di gran lusso del futbol italiano. In possesso di palla Marocchi per la Juventus. Il disimpegno è su Napoli. Il suggerimento in proponità è Galia che al secondo tentativo riesce a dare a Barros il quale mette in mezzo. E c'è questo controllo di Filippo Galli. Poi l'inserimento è di Colombo. Fermato, De Agostini in collaborazione con Marocchi. Va a Marocchi e cede centralmente a Galia di prima. Il tocco all'indietro è di Filippo Galli per Giovanni Galli. Oltre 3 miliardi di incasso. Reikard, Van Basten. Marocchi su di lui. Interviene l'arbitro, Delia. Calcio di punizione. Calcio di punizione che va battuto nuovamente. Colombo. Van Basten. Finta di corpo. Scivola sul terreno insidioso. Perde il pallone. C'è il rinvio di Bruno. Ma poi ancora Van Basten che riesce a girare su Colombo. Ma contemporaneamente su di lui c'è il pallo di Bonetti. Raccomanda la calma. L'arbitro e anche Donadoni ai compagni. E' dello stesso Donadoni che si accinge a battere il calcio di punizione per il Milan. Milan reduce dalla mara trasferta di domenica scorsa a Verona. Dove probabilmente ha dovuto dire addio allo scudetto. Comunque Donadoni scodella in area. C'è il colpo di testa di Bruno. Mentre Van Basten termina a terra in piena area di rigore. Poi a Leinikov allontanato. Il tocco all'indietro di Evani. Baresi. Scaraventa in proponità. In posizione regolare. Tessotti. Doppia finta. Colombo. Cross. Salta Van Basten. Il colpo di testa è di Bruno. Poi la conclusione fortissima è di Costa Curta sul fondo. Billy Costa Curta. Non c'è Maldini. Infortunato. Bonetti per De Agostini. Malenikov. Rivediamo la conclusione di Costa Curta con palla fuori. Presenti naturalmente numerosi sostenitori anche della Juve. Che hanno salutato con particolare simpatia Dino Zoff. Che è destinato a lasciare la panchina della Juve. Dove quest'anno ha fatto benissimo. Juve in avanti. C'è la rimessa da ripetere. Provvede Galia. Quarto minuto di gioco. 0-0. Inserimento di Napoli. Prontamente fermato. Ora sulla palla è Bruno. Il lancio verso l'area del Milan. con Casiraghi in posizione irregolare. Ha fatto accenno al collaboratore di aver visto Delia. Ma lascia proseguire per il vantaggio. Reikard. Colombo. Reikard. Passotti. Tunnel a De Agostini. Tentativo di triangolo con Colombo. Riuscito. Poi va al cross. Passotti. Ed è ancora De Agostini. Che sventa in fallo laterale. Colombo. Van Basten. A prolungare. Massaro. Tacconi. Avvio. Molto veloce della partita. Bonetti. De Agostini. A cercare Casiraghi. Casiraghi e Filippo Galli. Il tocco di Filippo Galli a Giovanni Galli. 0-0 all'andata. È la finale di Coppa Italia. Una finale nobilitata proprio dal grandissimo blasone delle due protagoniste. Bareggi. Napoli. Poi Colombo. Bruno. Tacconi. Galeati dallo studio vi ha già dato le estensioni disciplinari combinate dal giudice sportivo sul reperto di Lobello ai giocatori del Milan. Cinque turni di squalifica Reikard. Due a costa curta. Uno a Van Basten. semplice ammenda a Sacchi che avete visto in quadrato e che pure era stato espulso domenica scorsa al Bente Godi da Lobello. Palla verso Casiraghi che non può raggiungerla. Filippo Galli. Filippo Galli. Reikard. Galli ancora. Baresi. Si allunga un po' il pallone, viene attaccato ma in modo giudicato irregolare. Calcio di punizione. Pallo di Barroche. Mentre avanza il Milan con Donadoni. Suggerimento per costa curta. Il suo lancio è fermato da Napoli, ora Marocchi. In proponità su Schillaci che gira sulla fascia ma il colpo di testa di costa curta offre il pallone a Giovanni Galli. Ancora costa curta. Reikard. Van Basten, ottima la finta di corpo. Va Van Basten, c'è fallo su di lui di Alainikov. Delia chiama accanto a sé il giocatore sovietico. Non lo ammonisce, lo richiama verbalmente. Rivediamo. Evani e Donadoni. Ecco Donadoni. In mezzo. Van Basten, stop, perfetto. Fuori Donadoni, destro, sul fondo. La maschera di Sacchi. Buonetti. Schillaci di prima in mezzo verso Barros. Caricato da Filippo Gallic. Punizione per la Juventus. Si dispongono, vedete al limite della propria area, i difensori del Milan, con Baresi a comandare il fuorigioco. Mentre batte la punizione per la Juventus-Barocchi. Colpo di testa di Massaro, fuori. Ancora Marocchi. Ora di fronte Evani. Si libera del pallone all'indietro su Napoli. Napoli mette in mezzo, ribatte Baresi. Galia, Bonetti, largo su Marocchi. Marocchi tiene in campo il pallone, calibra un pallonetto sul quale c'è questa giocata molto bella di Napoli che chiama la parata Giovanni Galli. Ottima conclusione di Napoli. La bella parata di Giovanni Galli. Baresi. Lungo, ancora su Van Basten. Colpo di testa di Bruno. Ora il pallone per l'olandese che lo mette giù. Chiama in causa Evani. Donadoni. Reikard. Colombo. Parte il cross. Colpo di testa ancora di Bruno. Sventola al volo di Evani. Ribattuta. Baresi. Posta curta che non si intende con Evani la rimessa della Juventus. Dalla partita fino a questo momento. Ritmo elevato. Milan spigliato in avanti. Juve di rimessa. Bonetti. De Agostini. Aleinico. Bonetti. Sbaglia il lancio. Colombo. Verso Van Basten. Tocco di Van Basten che carambola sul corpo di Napoli. E Napoli che va al rinvio dopo che la palla aveva superato la linea laterale. Rimessa per il Milan. Evani. Marcatura strettissime. Van Basten. Evani. Costa curta. Fermato da Barros il suo lancio. Ecco ancora il piccolo portoghese che non riesce a controllare il pallone. Rimessa di Costa curta per Donadoni. Calibro ha un pallone per Tassotti. Stop di Tassotti. Finta. Limite. Fermato. C'è Colombo. Tenta la conclusione. Ancora con il sinistro. Va al tiro Tassotti e para Taccone. Partita ricca di episodi. Movimentata. Giocata su ottimi ritmi fino a questo momento. E' l'undicesimo del primo tempo. Il risultato è di 0-0. Rivediamo la conclusione di Tassotti. Marocchi intanto. Posizione regolare per Schillaci. Va Schillaci. Converge. Tocca Galia. Galia largo fuori gioco. E' rientrato ma non in tempo Casiraghi. Reikard. Rivediamo. Vedete che in effetti al momento del lancio c'erano ben tre giocatori della Juve in posizione irregolare. Baresi. Verso Massaro. Su Massaro Marocchi. Parte il cross immediato. C'è Van Basten. Ancora un tocco di Donadoni. Poi sbroglia Leinikov. Galia l'indietro su Taccone. Bonetti. Chiama il fuorigioco. Baresi ma c'è questo lancio. Il contropiede per Massaro in area. Van Basten alto. Conclusione di prima da parte di Marco Van Basten inquadrato dalle telecamere della linea di produzione 5 guidate dal regista Tomasetti. Rivediamo. 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 Napoli. Fuorigioco di Casiraghi. Facendo anche in questo caso di proseguire. c'era stato lo spandieramento netto del guardaline del guardaline dell'IA fatto proseguire. Rai Karp. Rai Karp. Rai Karp. Rai Karp. Rai Karp. ecco il tocco su Bruno che non aggancia anzi su Napoli scusate Dino Zoff Costa Curta Donadoni Reikard sempre Reikard Van Basten che ha ricevuto da Massaro tenta il dribbling si chiudono i difensori della Juve la palla è per taccone Milan ha cominciato alla grande questa partita quasi a mettere in soggezione la Juventus e a farle intendere che non è il caso di parlare di qualche debito di carattere fisico-atletico da parte dei rossoneri De Agostini ora in passaggio di palla di fronte Colombo colpo di tacco per Baros Aleinikov Franza, Aleinikov tocca Schillaci Galia Napoli Aleinikov Napoli Aleinikov elegantissima manovra della Juve Kasgraghi il cross colpo di testa di Baresi molto elegante la manovra Juventina ora il Milan riassume il controllo del pallone la combinazione tra Van Basten e Raikard ancora Van Basten in mezzo verso Massaro ma il lancio è troppo profondo Tacconi controlla dalla partita Barocchi Aleinikov Napoli Bonetti De Agostini Ancora Dario Bonetti colpo di testa di Filippo Galli Tassotti Tassotti entra in contatto ripetutamente con Baros poi disimpegna all'indietro in modo leggero e Giovanni Galli è costretto a precipitosa uscita De Agostini per la rimessa Schillaci Barocchi dentro posizione regolare tiro e gol di Galia Juventus in vantaggio Galia al sedicesimo del primo tempo porta in vantaggio la Juventus rivediamo vedete il lancio di Marocchi la posizione è regolare gol di Galia sull'accenno di uscita di Giovanni Galli rivediamo ancora Schillaci Marocchi vedete che viene da dietro Galia anticipa tutti anche Baros e mette in gol 1-0 per la Juventus è il sedicesimo del primo tempo Reikard Galli Varese Van Basten deve vedersela con Bruno serie di finte ciocco all'indietro per Evani buon lavoro vai Evani Evani prova il sinistro svirgola all'indietro Alainikov c'è Angolo Evani Donadoni ancora Evani colto di testa di Reikard quindi Di De Agostini recupera Costa Curta Campanile Marocchi Filippo Galli Tassotti di testa in mezzo ma finisce per favorire Alainikov lunghissimo rilancio sul quale c'è Paresi Reikard prolunga Bonetti lancio verso Casiraghi Schillaci Tassotti recupera il pallone dai piedi dell'avversario imposta dalla parte opposta su Evani Van Basten Donadoni partita molto tesa con la Juventus che conduce per 1-0 con gol di Calia al sedicesimo va a effettuare la rimessa Napoli Marese intervento a gamba tesa calcio di punizione siamo al diciannovesimo da prima del quattro risultato di 1-0 per la Juve che batte questa punizione con Marocchi Giovanni Galli Massaro Marocchi Tacconi Bonetti rallenta ora naturalmente la correzione bianconera non accende al pressing il bimbo Napoli Bonetti De Agostini con il lancio di Tacconi il colpo di testa di Costa Curta va a Van Basten lo ferma Bruno ancora a Van Basten e ancora Bruno in pallo laterale Costa Curta per la rimessa ma basta Tocca Devani tenta di controllare il pallone ma viene fermato in calcio d'angolo Donadone dalla bandierina colpo di testa da parte di Casiraghi poi Bonetti Bonetti evita in qualche modo Donadone poi lancia in profondità colpo di testa di Baresi palla per Massaro Reikard controlla l'indietro c'è un fallo si prosegue per il vantaggio Colombo Reikard tre su di lui si districa bene l'olandese riconquista il pallone lo tocca in profondità ma c'è De Agostini Aleinico Schillaci buon lavoro per Casiraghi attaccato irregolarmente al giudizio di Delia da Filippo Galli calcio di posizione Juve sordiona ma attentissima Milan che vede il suo quadro psicologico ulteriormente aggravato dal gol subito ad opera di Galia 0-1 ancora la Juve vedete che si avvicina bene all'area avversaria Magalia viene fermato recupera Baros da per Casiraghi posizione di alla destra parte il traversone Caldi rilancio immediato con Van Basten che arresta evita Marocchi che lo mette giù calcio di punizione Baresi Mabaresi affonda trossa Van Basten Tacconi è una partita molto molto bella rivediamo lo stacco di Van Basten il colpo di testa centrale con Tacconi che para senza difficoltà per il mio di Tacconi Casiraghi Evani Massaro la ripronte a Leinikov stringe anche Napoli Evani Reikard Baresi Galli Tassotti De Agostini Filippo Galli Bonetti Calibrau buon suggerimento per Marocchi Reikard Colombo Tassotti Reikard Attaccato da Barros dall'indietro a Baresi da questi a Costa Curta cerca Varchi il Milan spostando il pallone ora da una parte ora dall'altra ecco Evani ecco Massaro parte il traversone Van Basten Van Basten tiro para Tacconi buona azione del Milan conclusione di Van Basten da posizione un po' descetrata rivediamo il tutto vedete Van Basten che controlla poi batte trovando una difficile coordinazione ma il giro non è forte Tacconi può parare De Agostini a Leinikov Bruno Bonetti Colombo e Reikard Evani Reikard Baresi Van Basten altissimo poi Casiraghi De Agostini Casiraghi gioca di fino buono tutto dice Delia Costa Curta Donadoni finta di corpo deve vedersela con due tenta il cross serie di rimpalli Bruno ce la palla De Agostini Reikard Cassotti Galli Baresi Evani Costa Curta Baresi dentro Colboricetta di Bonetti poi di Bruno poi di Baresi fuori gioco si prosegue Napoli e c'è un intervento in Delia con gioco fermo e calcio di punizione per il Milan autorità in tribuna avete visto Luca Cordero di Montezemolo Baresi Aleinicov Donadoni anticipato ancora da Aleinicov Baresi che anticipa lo scatto di Barros da Giovanni Galli da questi a Filippo Colombo Reikard Cassotti fermato da De Agostini Barros contropiede della Juve Barros contro di tacco Reikard Bruno Napoli Bruno Levani Reikard Tassotti Colombo Donadoni su di lui Aleinicov lo guarda a pista parte il cross c'è il colpore in testa di Passaro Tacconi va in presa Colombo Bassotti Baglia ancora poi il pallone termina fuori l'ultimo tocco è di Colombo la rimessa di De Agostini non è d'accordo Colombo Aleinico Schillaci Barros che non aggancia e Costa Curta ha il pallone e la offre a Massaro fermato ancora Costa Curta non aggancia ora Evani e bisogna sottolineare come il fondo del terreno sia terribilmente insidioso non a caso il mega impianto milanese verrà chiuso proprio dopo questa partita per tentare di dare manco un pochino più degno alla gara inaugurale dei mondiali ancora il Milan con pazienza e costanza tenta di riportarsi in parità Van Basten Reikard Colombo Donadoni converte Donadoni si allunga il pallone Schillaci lo ferma Calia Barroche Schillaci è una Juve che disegna delle ragnatele molto eleganti ed efficaci a centrocampo ora Schillaci lo ferma per un attimo Evani ma la palla è ancora della Juventus con Marocchi parte il lancio di Marocchi intercette Baresi e rilancia si appoggia a Leili con Sobassaro c'è punizione per il Milan Parisi Galli Colombo Bonetti per la Juventus non ha avversario vicino può controllare con calma e dare a Marocchi dentro esiste dallo scatto Casiraghi Giovanni Galli da a Costa Curva Reikard Donadone superata la mezz'ora di gioco 1-0 per la Juventus Passaro Reikard Colombo parte il traversone molto arretrato arriva dall'altra parte Costa Curta deve vedersela con Parosch serie di finte poi traversone ribatte a lei Nikov Galia Parosch lo aspetta Baresi Galia praticamente molto importante Bruno Van Basten Colombo ancora Van Basten ballo di Casiraghi Rivediamo immagini ora di nuovo in diretta con Massaro che serve Colombo ma di fronte a lei Nikov parte il traversone Reikard Palla larga Evani ora Costa Curta Reikard Evani e c'è un fallo sull'Evani da parte di Calia con conseguente calcio di punizione Evani con il destro Marocchi splendido il suggerimento di Marocchi a Galia in occasione del gol della Juventus Valenico Filippo Galli Reikard Barretti Terzetta Galia Palla Barosch che tenta di beppare Costa Curta Palla fuori sul tocco del di pressione del Milan Ruibarro Lancio di Napoli colpo di testa di Reikard Barocchi Tassotti Colombo Reikard Massaro Reikard Bambastin Colombo parte il cross alto per tutti dalla parte opposta arriva Evani e va subito alla conclusione esterna della rete rivediamo rivediamo posizione molto angolata è andato al tiro Evani che aveva anche probabilmente visto Taccone impiazzato fuori dai Bambastin Bonetti Bonetti ancora Bonetti che riceve da Napoli è comunque una degna finale di Coppa Italia con una Juventus che conduce per 1 a 0 0 a 0 è il match d'andata anche quello a vincente con la Juventus che praticamente conduce alla danza per 90 minuti allora il canto è Caglia per la Juventus Maros Maleni Com Reikard Colombo Passo vedete i ripalzi regolari Pasulli del pallone Reikard tenta l'affondo ma c'è Marocchi Casiraghi di prima bene su De Agostini da questi a Barros d'esterno lancio di Barros verso Casiraghi che va altissimo a dare il pallone a Marocchi il quale non va a cancio resta a terra intanto Casiraghi lo vedete sulla sinistra del teneschermo e Colombo correttamente lascia a sfidare il pallone il pallone di gioco si verrà Casiraghi che è un'interessante di gioco per un perduto di gioco con il suo medido stacco probabilmente è stato coltito al volto un giovane molto interessante proviene dal Monza vedete Colombo accanto a lui rivediamo è stato proprio tra Colombo e Casiraghi lo scontro vedete che Casiraghi probabilmente si fa male cadendo con la spalla ecco Angelo con la un po' briazzolo anche egli come Casiraghi ha l'impressione di potercela fare Casiraghi anche se c'è lì una parella Casiraghi viene però accompagnato a molto campo con l'impressione che si fa male ha una spalla vediamo vedete che Colombo lo spinge un po' via dopo che Casiraghi aveva colpito il pallone rimane alla spalla e Agostini correttamente restituisce il pallone a Filippo Galli che lo dà il suo omonimo portiere da questi a Costa Curta in campo accolto da un'ovazione da fantastici applausi sportivi anche dei tifosi rossoneri Casiraghi Colombo l'esterno De Agostini Reikard Bonetti Galli Galia Marocchi Donadoni Paresi Vintas Schillaggi Massaro Paresi Mettito il lancio per Cassotti dentro per Massaro c'è Calia in piena area di rigore a liberare Reikard 48 5 Vintas Vintas Galli 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 Galia C'è il pallo di Massaro non c'è la posizione già battuta ma male dal giocatore della Juve che praticamente regala ma ancora il pallone rossoneri parte il cross van Basten van Basten van Basten vintas di mettere fuori palla sul braccio di Galia facendo di aver visto Delia ma che la distanza era ravvicinata quindi non c'è volontarietà di giusto dell'arbitro Toradoni Galli attaccato da Schillaci se ne libera da Abaresi sul tocco di van Basten pallone carambolato nettamente sul braccio di Galia ma vanno a proseguire l'arbitro giudicando involontario il tocco di mano del giocatore della Juve intanto Bruno passò tipo di Milo Reikard gara concitata dentro troppo in proponità Tancone Sorveglia punto sfuma a fondo campo rivediamo avete visto il braccio netto di Galia d'altra parte è anche vero che i due giocatori erano a strettissimo contatto e non c'è stato assolutamente alcun movimento finale da parte di Galia che aveva accettato la volontarietà De Agostini Bonetti Napoli Milano è in una situazione di porteggio difficile perché anche l'eventuale 1 a 1 primi leggerette la Juventus cui andrete la Coppa Italia colpo di testa di Galli il rinvio di Napoli quest'altro colpo di testa di Galli questo di Van Basten e poi Marocchi che scaraventa verso Giovanni Galli Tassotti Massaro Marocchi fallosamente su di lui gara di notevoli contenuti agonistici ma sostanzialmente corretta Evani Donadone Evita Galia va sul fondo quizzo di Donadone parte il cross è chiuso in angolo è stato Barros a mettere oltre la linea di fondo 5 al termine del primo tempo 1 a 0 della Juventus Donadone della bandierina ancora Barros e c'è questa possibilità per Schillaci che vola via inseguito da Colombo cambia Schillaci ottima l'intenzione di servire Galia che si era venuto prontamente smarcando sull'altro fronte ma il suggerimento non è stato preciso Colombo Galli Paresi ancora Galli Reikard Tassotti buono il suggerimento di Massaro per Tassotti disturbato da Schillaci il rimio di De Agostini il colpo di testa di Galli ma la palla è per Barros ancora la Juve pericolosamente in contropiede Marocchi si sovrappone Schillaci converge Marocchi prova al destro ribattuto da Galli alimenta l'azione di Rettina Napoli sulla fascia destra parte il cross contatto al limite dell'area Marocchi giù ma il pallo è contro la Juve Galli Galli Reikard Paresi Donadoni Donadoni Colombo con la punta del piede Alejnikov Schillaci Tunnel è appena lavorata sotto il profilo fisico ma soprattutto nervoso sta conducendo per 1-0 questa seconda finale di Coppa Italia sul campo del fila 0-0 il risultato del match d'andata Bonetti Tacconi chiamiamo la conclusione del primo tempo del corso del quale ci saranno interventi dallo studio e qui dalla tribuna con Franco Zuccalà punto di testa intanto di Costa Curta Van Basten Napoli Bruno Donadoni Tassotti Van Basten Van Basten Bruno raddoppio di Marocchi insiste nell'azione personale Van Basten poi cede a Tassotti Colombo dentro molto bene per Tassotti parte il cross angolo provocato da Bruno buona la combinazione grande tensione nervosa per Sacco e van compro di testa di Galli ma non ci sono eccessivi problemi per Tassotti maresi palle fuori la rimessa bianconera facciamo gli sboccioli del primo tempo gol di Gallia al sedicesimo Schillaci balla ancora fuori Gallia per la rimessa ancora Gallia tutta in mezzo Filippo Galli Casiraghi Baresi Reinhard quindi questo lancio di Napoli sul quale arriva Colombo il suo rilancio è disturbato la palla termina fuori la rimessa del Milan Reinhard 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 e Marocchi povere Marocchi spostando però irregolarmente Reinhard ottima partita comunque del centrocampista del Juventus naturalmente si candida anche quale possibile protagonista dei mondiali Tassotti Dunaduni Tassotti Galli Baresi Poco di testa di Napoli Massaro Reinhard Aleinikov Tassotti dribbling fallo di Aleinikov seconda volta dice Gelia rivediamo vedete che entra in codo irregolare in piccolata Aleinikov calcio di posizione per il Milan proprio tempo scaduto al solito Evani e Dunaduni nei pressi del pallone Rambaste Tassotti ancora Tassotti gira in mezzo c'è Filippo Galli che ha tentato lo stacco forse è stato spostato si prosegue palla in calcio d'angolo o comunque fuori ho visto tutto io dice Delia Donaduni ancora Donaduni fuori per Baresi esterno su Tassotti cross rimpalli taccone è finita finisce il primo tempo e le due squadre tra gli applausi del pubblico vanno al riposo il suo risultato di 1 a 0 a favore della Juventus ha segnato Calia rivediamo la precedente azione vedete Filippo Galli sul quale c'è il contatto da parte di Bruno l'arbitro Delia ha detto di aver visto tutto era lì finisce il primo tempo 1 a 0 per la Juventus linea allo studio Bonetti e De Agostini sono saltati assieme De Agostini Bonetti Reikard e i due Juventini si sono scontrati tra loro il Milan che intanto restituisce correttamente il pallone alla Juventus e Barros lancia in profondità dove c'è Baresi 1 a 0 per la Juventus 0 a 0 nel match d'andata necessità per il Milan di segnare due gol per vincere la Coppa Galli Baresi Galia Donadoni 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 al limite da fuori verso Reikard che è anticipato dal sempre presente lucidissimo Malocchi Baresi Giovanni Galli sul suo rimpio il pallone controllato male da Evani che poi è occupato da Barros e finisce per coltire il portoghese e c'è calcio di punizione sarà Barros rivediamo vedete che alza il piede Evani colpisce il portoghese non mi sembra però che il portanto sia stato particolarmente violetto e i piedi infatti lui va la battuta di Napoli a Casiraghi altissimo ma riesce solo a sfiorare il pallone ottimo nell'elevazione questo ragazzo di Fogatti Malocchi fermato da Baresi Colombo Reikard ancora Leinikov Baresi Bucchio a centrocampo Baresi che è ricevuto da Colombo Reikard dentro ma c'è il battaggio su tutti Bonetti Bonetti rallenta un po' il rilancio viene attaccato dalla parte termina a terra e la sua segnalazione è che Guadalini interviene De Lille lo vediamo fa tutta la punizione per la Juve c'è sul pallone Baresi assieme a Costa Curta ed è Costa Curta che tocca su Galli di Scorcio le gradinate di San Siro Ricolme 83.000 spettatori oltre 3 miliardi di incasso per questa finale di Coppa Italia si vede la Juve si vantaggio per 1-0 sul campo del Milan Milan in avanti con Baresi si allunga troppo il pallone lo recupera con un take scivolato scorretto ci vediamo tra piedi uniti in maniera pericolosa su Casieraghi e c'è ammunizione per Baresi ammunito Franco Baresi in piedrito sacco in piedi Casieraghi ricordo che nel match d'andata diretto sempre da Delia c'era stata l'espulsione di Raikard che aveva commesso un fallo su Triccella intanto è Casieraghi alla caccia del pallone che tenta di giocarlo tra tre avversari poi De Agostini che mette in mezzo e c'è l'uscita di Giovanni Galli su Rui Baroc pericolosissima in contropiede la Juventus anticipo di Bruno su Van Basten rimessa per il Milan Evani posta curta Evani Borgo Borgo Novo sfiora Tacconi rivediamo l'uscita di Giovanni Galli su Baroc Tacconi e Borgo Novo Filippo Galli Marocchi grande partita di Marocchi De Agostini De Agostini e Colombo in fila del pallo laterale Colombo anticipa l'avversario protegge il pallone lo lascia sfilare a fondo campo ancora Colombo Borgo Novo a campanile verso Van Basten che riesce a colpire di testa ma c'è Galia il suo rilancio è controllato da Baresi che butta in avanti Sudonaduni ecco posta curta ancora questa curta dopo che il pallone era stato fermato da Casiraghi Baresi con l'esterno a Leinikov Barocchi in contropiede Schillaci ed ecco Casiraghi attentissima la Juve a sfruttare le opportunità in contropiede parte il cross lungo per tutti Colombo lo recupera dalla parte opposta Giovanni Galli Evani posta curta Reikard Van Basten c'è l'intervento su di lui da parte di Bruno poi al centrocampo si lotta con Canimento e Schillaci difende il pallone lo dà da Leinikov da Leinikov da Marocchi da Marocchi dentro ancora per Parros mentre accompagna da quest'altra parte Napoli è una Juventus molto viva parte il cross attenzione non c'è fuori gioco è il tiro di Schillaci ribattuto da Giovanni Galli poi Schillaci svirgola ancora ma recupera ma recupera il pallone lo dà De Agostini parte il cross di De Agostini stavolta c'è fuori gioco blocca comunque Giovanni Galli grande rischio per il Milan a terra Schillaci rivediamo il tutto vedete Schillaci il suo tiro e la respinta di Giovanni Galli tanto c'è l'arbitro che probabilmente è stato colpito da qualche oggetto vedete Delia che si tiene la spalla e va a recuperare qualcosa che fa vedere a Giovanni Galli parla anche Tassotti con l'arbitro e Treparesi tra destra probabilmente ancora per l'ammunizione ricevuta naturalmente è sempre difficile interpretare quello che i giocatori dicono all'arbitro attraverso la mimica mi è facile però di capire che Baresi dicesse all'arbitro che al primo intervento falloso è stato ammunato comunque Delia ancora in campo anche se si tiene la spalla colpo di testa di Tassotti Marocchi Casiraghi Baresi Galli Galli il ritiro di Taccone Tassotti Borgonovo Galiè su di lui quindi il tocco il pallo laterale di Casiraghi Guardate non trovano spazi e corridoi rossoneri la palla è ora Filippo Galli-Baresi ancora un lancio centrale e per Taccone in questo avvio di ripresa non ci sono che comodi palloni da controllare mentre la Juventus ha sfiorato il raddoppio punto di testa di Baresi poi Alaini, Coppola ora Schillaci, fuori gioco di Baros Baris Galli Galia Napoli Costa Corta Reikard Baresi Borgonovo Pallo di Galia Le vani sulla palla Borgonovo 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 Emane Donadone Tocca Galia Barocchi Baresi Donadone Galli Rambasca Pallo su di lui di Bruno Rimasto la sua volta confuso Gioco ferma le posizioni dell'Illina Bariz Il colpo di testa di Pippo Calvi Colombo a giocare il pallone A restituirlo al compagno Che lo sfista su Marese Ancora un lancio profondo E Tacconi che esce Chiusa forse la formazione di Sacchi In questi lanci centrali Mentre una delle caratteristiche fondamentali del Milan Quando è al meglio della condizione della forma È proprio l'attacco sulle fasce esterne Freca Galli E c'è un errore ora dei difensori della Juve È con Borgonovo che va alla conclusione Tacconi che para Vedete che Tacconi Lancia un'occhiataccia ai compagni della difesa Che spesso anche nel corso del campionato Hanno commesso qualche leggerezza C'è Pallo ora di Costa Curta Sul positivo Casiraghi Rivediamo Vedete il sinistro di Borgonovo Nessuna preoccupazione Non lo spaventa di vedersi un avversario solo davanti Da parte di Tacconi Batte Napoli Bala per Coloppo Dopo il contatto aereo tra Tassotti e Casiraghi Ma ancora c'è un disimpegno Troppo leggero Del Milan Milan con la Juve Che cerca di approfittarne Ma Approfittarne ma Marocchi è in posizione irregolare Anche il gol Della Juventus È nato Su un tocco all'indietro Di Tassotti Che ha costretto Giovanni Galli All'uscita Da lì poi è nata L'azione Di Galia 1-0 ancora per la Juve Con Tassotti Che porta il pallone Paesi 14esimo della ripresa Palla verso Van Basten Che non la cassa Naturalmente Con il trascorrere dei minuti Il quadro Anche psicologico Va facendosi sempre più pesante Per il Milan Mentre la Juventus Si sente forte Di questo gol di vantaggio Che è un gol Che è più pesante Di quando il risultato numerico Non dica Di quando il match D'andata Era finito Sullo 0-0 E quindi questo è un gol Che in pratica Per la Juve Vale doppio Paesi Cercare Reikar Che salta Sieme a Bonetti Sono quelle teste di Bonetti Che poi anticipa Ancora l'avversario Parte il lancio di Bonetti Direttamente in pallo laterale Partita che in questo Secondo tempo È meno Fimpante Meno brillante Di quando Non sia stata Nella prima parte Reikar Reikar Colombo Riesce a colpire di testa Borgonovo Ed è molto bravo Tacconi A recuperare la posizione A mettere in cancolo Con un colpo di reni Prodezza Di Borgonovo Che sembrava fuori tempo E invece è riuscito A colpire di testa Chiamando Tacconi A un con facile intervento Ancora Donadone Napoli Rimessa per Il Milan Ancora Donadone Costa Curta Donadone Punta Napoli A due avversari di fronte Tenta la finezza Sulla rimattuta Costa Curta Parte il cross Colpo di testa di Bonetti Palla fuori Ma per Paresi Poi Napoli All'indietro Salta Van Basten Il forbice Rimia Napoli Colpo di testa di Paresi Filippo Galli Pallo di Marocchi Ammolito a Marocchi Probabilmente Sì Ammolizione per Marocchi Rivediamo Paresi Sulla palla Ancora centralmente A terra Borgonovo Galia E gli altri Giocatori della Juve Che lo circondano Minaziosamente Poi arriva Anche Delia A sbrogliare Il campanello Che si era creato Come si sono precipitati Tre giocatori della Juve Su Borgonovo Vedete Borgonovo Che va a terra Probabilmente Senza che Galia Non tocchi E da qui La reazione Dei tre bianconeri Che sono andati Ad accusare L'avversario Di essere Di sbattonare Intanto c'è Van Basten Il suo lancio Ribattuto Ancora Van Basten Al limite Circondato Di avversari Rilancia La difesa Juventina C'è Paresi Che ha dato A costa curta Ancora un lancio Centrale Corecchi Che tocca Il pallone Verso Dea Costini Il rilancio Del quale È controllato Da Tassotti Ora la pressione Del Milan Si fa notevole Parca il cross Di Donadoni E c'è ancora Un'indecisione Dei difensori Della Juve Alla fine Napoli Che allontana Costa curta Baresi Bonetti Napoli Costa curta Stiamo in causa Della parte opposta Tassotti Un dribbling Di Tassotti Palla sul destro E poi Suggerimento In profondità Dove non scatta Nessuno Continua la polemica Tra i difensori Della Juve Borgonovo Che anche in questa Occasione Si era Adagiato A terra Tanto siamo tutti Al diciannovesimo Della ripresa E la Juventus Conduce ancora Per 1 a 0 Qui allo stadio Milanese Di San Siro Reikardt Reikardt De Agostini Marocchi De Agostini Con il destro Costa curta Reikard Palla che carambola In profondità Per Porgonovo Il tocco E per Reikardt Reikardt Marca Evani In posizione di alla sinistra Va Evani E chiude su di lui Napoli Tocco Ma basta Tenta di girarsi Lo anticipa In seconda battuta Bonetti Poi da quest'altra parte Va via Casiraghi Ma dopo aver commesso Pallo su Filippo Galli Questo almeno Il giudizio dell'arbitro Già battuta la punizione Tassotti Donadoni Scatta Colombo Servito Parte il cross Bonetti Mette giù ancora Un pallone sporco Lo allontana De Agostini Lo sfiora Galli Lo recupera Mareti Tassotti Grande impegno E volontà Da parte del Milan Che non ha più La lucidità Dei tempi migliori Ma ha sempre Una grandissima determinazione Ma di vista Un'altra sostituzione Pronto Salvatore Per il Milan Esce Colombo Entra Salvatore Ventesimo Del secondo tempo Seconda sostituzione Nella fine del Milan Mi ricordo che Coppa Italia Sono avesse Tre sostituzioni Passotti Pronto per la ripresa Reikas E il top Di Borgonovo Che si libera A due passi Da Taccone Ma non riesce A colpire il pallone Anche perché Ha commesso Giudizio dell'abito Pallo Ecco che li vediamo Vedete un poco Di testa di Reikas Poi è Borgonovo Che spinge via Napoli Prima di tentare Di colpire il pallone Di colpire il pallone Prevista la spinta Del giocatore del Milan Reikas Napoli Tassotti Campaster Prolunga Verso Salvatori De Agostini C'è E mette fuori Ma sempre Ampiamente positiva La prova Di De Agostini In formice Bellissimo L'assist Di Donadoni Palla come fuori E poi Bellaci Che all'Ordana Con Baresi Che dà Giovanni Galli Passotti Galli Baresi Sbaglia E c'è Casiraghi Attacco dritto Di Casiraghi Che va al tiro Fuori Ha tentato La penetrazione Casiraghi E la gran battuta Da fuori Casiraghi Ma è stato messo In moto Da un errore Di Paresi Probabilmente Anzi sicuramente Determinato Da un impalzo Irregolare Del pallone Abbiamo rivisto L'estituzione Del giocatore Bianconero Mentre ora È Vani Che tocca su Donadoni Da Donadoni A Paresi Da Paresi A Reikas S'allarga E riceve Ora Da Soppi Mette in mezzo Van Basten Tocco di testa Palla fuori Reikas Svirgola il pallone Poi ancora Basta curta Tiro fuori Angolo C'è deviazione Concitate azioni Con Napoli Che protesta Donadoni Donadoni Offensive Offensive Da parte Del Milan Che a conto Una traversa Piena Rivediamo Vedete Salvatore Che spuccia Il pallone Contro di testa E di Galli Quest'altro È di Van Basten Traversa Piena E poi Palla Messa In calcio D'angolo E il Milan Vedete Oltretutto Non è davvero Fortunato Rivediamo Ancora In colpo di testa Di Galli Quello di Van Basten Molto intelligente E a seguire Il trocio Di Pane Ora un bello stacco Di Casiraghi Il rinvio Di Paresi Il colpo di testa Di Bonetti La palla è fuori E c'è Vani Per la rimessa Van Basten Verso Paresi Galli Tassotti S'allarga Salvatore Dentro Per Van Basten Si gira Un dribbling Pallonetto A forno Lotto Sempre composto C'è ancora Un fallo Di Costa Curta Ora su Casiraghi Vedete inquadrato Filippo Galli Malocchi Con calma Ancora Casiraghi Galli Cassoffi Elegantemente Salvatore Reikard Salvatore Galoppa Sulla faccia Salvatore Si avvicina all'area Va a chiuderlo Bonetti Parte il traversone Borgonovo E poi Van Basten In ritardo Palla fuori Palla fuori Palla fuori Pericolosissima Del Milan Che sul cross Di Salvatore Ha tentato Di andare Alla deviazione Era avvicinata Prima con Borgonovo E poi Con Van Basten Ecco che Rivediamo il tutto Ci prova Borgonovo E ci prova anche Van Basten Ma sono in ritardo Taccone Tassotto Salvatore Raikard De Agostini Fallo di Filippo Galli Su Casiraghi Attivissimo Casiraghi Si è messo In buona evidenza Poi Ombra Invece Schillaccio Punizione Di De Agostini Costa Curta Napoli Ora Casiraghi Casiraghi Costa Curta C'è un doppio Rimpallo L'ultimo tocco È di Casiraghi Non è angolo Salvatore Salvatore Ancora Salvatore Da Galli Cassoffi Salvatore Si è ben inserito Strattonato Da Leinikov C'è calcio Di punizione Donadoni Costa Curta Costa Curta Ivani Costa Curta Il cross Il cross La terra È fermato Da Bonetti Bonetti Mette fuori A cercare Schillaci Parisi Prolunga Sul lontanissimo Giovanni Galli Il quale Da Salvatore È attaccato È attaccato Da Marocchi 0-0 E c'è il pallo Ora su Donadoni Ad opera di Napoli Rivediamo Con questo contatto Vedete che alle spalle Del giocatore Del giocatore Del Milan Napoli Si appoggia Quindi questo calcio Di punizione Mentre anche Zoff È sempre intenzionato A mandare in campo A nuovo elemento Strattonato Di Alessio Lo vedete Inquadrato Con la maglia Numero 14 E Dà consistenza Al proprio Centrocampo In fase di copertura Zoff Che fa Uscire Schillaci E Lo fa Rilevare Da Alessio Esce Totò Schillaci Entra in campo Alessio Poco più di un quarto D'ora Alla fine Ovvio che Zoff Si cauteli Sulla palla Donadoni Anche Salvatore In zona tiro Arriva poi Capitan Marelli Parte Donadoni E c'è Taccone Che va Ad arrampicarsi In aria E a bloccare Gli scledi Dostile Rivediamo Vedete che Taccone Concede spazio Da questa parte A Donadoni Quasi Invitandolo A battere Di qua Si coordina E va E va Plasticamente Ad artigliare Il pallone E va E va Van Basten Rimpalli Borgo Borgo Novo Salvatore Fermato Galli Breaker Fuori gioco Di Borgo Novo Di Borgo Novo Il rivio di Taccone Colpo di tetta Di Casiraghi Quello di Reikard Ecco Alessio In passaggio di palla Sudentra Marocchi Gioca il pallone All'indietro E metto Una finta E poi serve bene Casiraghi Buona partita Di Marocchi Napoli Paresi Galli Ma basta Napoli Taccone Bonetti Alessio De Agostini Alessio Intelligenza Servizio Di De Agostini Per Alessio Che è il più fresco Di tutti Taglia il pallone In mezzo Ma c'è Paresi A prolungarlo Su Galli Van Basten Borgo Novo Pallo Di Galia Zoladone Spinge via Marocchi E Barocchi Da Reikard Da questi A Tassotti Parte il cross C'è un colpo di testa E la presa Ancora Di Taccone Per questa grande Le tribune Dove sono Assegati I numerosi Sostenitori Della Juve Napoli Casieraghi Tinezza Calcio di puniziale Per pallo di mano Tredici al termine Juve 1-0 Casieraghi E' bravo Parocchi Grande duello A centro campo E poi C'è un contatto Irregolare Calcio di punizione Per il Milan Con palla Che Dice Delia Deve essere giocata Quanto è ferma Visto il piccolo Parrosh Che si è inserito Fra due Rossoneri Borgonovo Reikard Di prima Molto bene Su Tassotti Che è di fronte De Agostini Trova lo spazio Per il cross Colpo di testa Di Galia Aleinico Parrosh Marocchi Costa curta Protesta Marocchi Evane Bonetti Vinta Donadoni Fuori tempo Una Juve Molto Determinata Ben disposta Sul campo Ha lasciato a lungo L'iniziativa Il Milan Navigando Sul colletto Di vantaggio Conquistato Al sedicesimo Del primo tempo Il Milan Ha fatto Di tutto Per ratrezzare La situazione Ma è ancora Sotto di un gol Il colpo di testa Di Baresi Quello di Alessio Casieraghi Tassotti Reikard Baresi Pallo Di Barros Evane Donadoni Si sovrappone Evane Il top è per Van Basten Pinta di corpo Ha toccato anche Bruno Ora Reikard Borgonovo E non è fortunato Ottimo Era stato Il tentativo di servizio Di Borgonovo Verso Van Basten Ma il pallone Carambolato Sui piedi Di Bruno Ed è terminato Attacconi Casieraghi Quasi tutte sue Le palle alte Pallo Di Borgonovo Marocchi Che poi lascia L'incarico A qualcun altro Alla fine Baros Che dà indietro Attacconi La Juve Naturalmente Fa di tutto Per guadagnare tempo Sente la possibilità Di aggiudicarsi La Coppa Italia E per il Milan Non è davvero Un gran momento Galli Alessio Casotti De Agostini Non filtra Il pallone Calciato Da Alessio Per l'intervento Di Salvatori Ma la rimessa È bianconera I cuori Ora sono tutti Dei Sostenitori Della Juve Felicissimi Naturalmente Mentre Zoff Si prepara A cogliere Eccolo Il quadrato Prontamente Si prepara A cogliere Un'altra soddisfazione Personale E a crescere Ulteriormente Nella considerazione I tifosi Che poco di buon grado Lo vedono partire Paros Fermato Galli Aleinico Evano E va Porta in avanti Il raggio Della propria Della propria azione La Juventus E molti E molti difensori Giovanni Giovanni Galli Giovanni Galli Giovanni Galli Borgonovo Praticamente Più serena E in migliori condizioni Fisico-atletica Galli Donatone Borgonovo Giù Pallo di Gallia Delia Ha fatto un predicozzo A Bonetti Evani E Paresi I pressi del pallone Poco più dietro Reicard Tocco è proprio Per Reicard Salvatori Mette in mezzo Il rinvio Di Aleinico In palla laterale Difende benissimo La Juve Donatone Galli Baresi Persa la palla Contro attacco Della Juventus Con Marocchi Che ha ricevuto Il pallone Da Alessio Guarda Marocchi Sul quale gioca Ora Tassotti Pronto a raddoppio Anche Donatone Apponda il take Tassotti In modo giudicato Irregolare Da Delia Che era lì vicino Rivediamo l'azione Vedete che c'è fallo Svolano i tifosi del Milan Esultano quelli della Juve Meno di 5 minuti Al termine Juventus Ancora in Vantaggio E in avanti Con Alessio Casiraghi Palla fuori Aleinico Falto Giudicando L'andamento Di questa partita In combinazione Con il match D'andata Bisogna dire che Il successo Coppa Italia Della Juventus Ma i rischi Corsi Da tacconi Sono stati relativi Anche se Indubbiamente Il Milan Quanto meno Un gol Avrebbe potuto Farlo E forse Anche lo avrebbe Meritato Ma in ogni caso Anche l'eventuale 1 a 1 Privilegierebbe La Juve Di questo Zoff In partenza Per il dispiacere Dei suoi Estimatori E della Grappata Dei tifosi Juventini Marocchi C'è ancora Pallo Di questa curva Resta giù Marocchi Rivediamo A questo punto Si può dire Che la Juventus Si aggiudica La Coppa Italia A coronamento Di una Stagione Intubbiamente Positiva Dei bianconeri Che hanno perso L'occasione Scudetto Con parecchie Troppe ingenuità Difensive Ma che si sono Qualificati Per la finale Di Coppa UEFA Dove incontreranno In doppia partita La Fiorentina E stanno per conquistare La Coppa Italia Quindi un comportamento Più che degno Della formazione Bianconera Alessio Galli Napoli Ancora Napoli Costa curta In avanti In avanti Pallone Come può Mentre Vedete Lo stadio Di San Siro Vi ripeto Che oggi È stato inaugurato Il terzo Anello Alessio Galli Fuori gioco Fuori gioco Di Barros Ma si sta già giocando L'ultimo minuto A San Siro La Juve conduce Per 1 a 0 Con gol di Galia Al sedicesimo Del primo tempo Su questo vantaggio I bianconeri Hanno costruito La loro partita Il Milan Ha attaccato Con volontà Con grinta Con decisione Parte ora L'ennesimo cross C'è ancora Borgonovo A terra Ecco che rivediamo Vedete il cross La presa Di Taccone Il colpo di testa Di Galli Alessio Marocchi Evani Costa curta Galli Borgonovo E Scaraventa Bruno in angolo Si preparano Grandi festeggiamenti Da parte dei tifosi Della Juve Numerosi Anche a Milano Come in ogni altra parte D'Italia Vedete che siamo già Al di là del novantesimo Quando Donadoni Va a battere L'ennesimo Angolo per il Milan E poi Bruno Che manda lontano Un pallone Che viene giocato Da Franco Baresi Bonezzi Parro Alainico Alessio Marocchi Marocchi converge Ma viene anticipato Dovrebbe essere a bordo campo Una partita abbastanza ben giocata Abbiamo vinto L'importante era vincere a questo punto Bene Grazie a Dino Zoffe Adesso cercherò di approdare dagli altri bianconeri E qui ho Tacconi Tacconi una grande soddisfazione per te no? Ma dopo cinque anni ci voleva proprio Adesso aspettiamo la Coppa UEFA Speriamo di conquistare anche quella Sì è una stagione che sembrava persa Invece mi sembrava grandi risultati Tutto sono Ma persa per gli altri Per noi no sicuro Senti e vabbè Questo comunque oggi è una grande soddisfazione Per questo uomo che vi lascia Ma io Guarda Questo sì È un grande uomo Sicuramente farò bene in qualsiasi posto Ecco grazie a Tacconi E adesso andiamo a sentire Gigi De Agostini Se riesco Gigi De Agostini Mi pare È una soddisfazione enorme Vincere a Milano Non capita sempre Noi penso ce l'abbiamo fatta perché Ci abbiamo messo tutto Credo nell'arco delle due partite Che abbiamo meritato ampiamente Ecco come l'hai trovato questo Milano A parte questa grande soddisfazione È sempre una grossa squadra Al Milan Baterla qui a San Siro Fa molto onore alla Juventus Ecco adesso Tento ancora Tu mi interromperai Quando vorrai la linea Io cerco Rui Barros Scusa Sottolineo solo il fatto Che ora la Coppa Italia Viene consegnata Al capitano Della Juventus Tacconi Che la porta ora Verso la zona Dello stadio Dove più numerosi Sono i tifosi juventini Vai pure Franco Sì E beh Capisci che in questo momento Cerco di andare lì Vicino la Coppa Adesso vediamo un po' Cosa mi dice Vede Franco Linea a Pizzu Dalla parte opposta C'era un giocatore Con la maglia bianco nera In posizione Irregolare Si dimmi Ho qui in Marocchi Con Zoff Sono così dei fotografi assediati Vorrei chiedere a Marocchi Mi sembra che oggi Si è vista una Juve Bene in palla Una Juve che ha meritato Mi pare Questa Coppa Italia Una Juve che sta finendo In crescente Quest'annata Sì Forse meritavamo di più All'andata Oggi Avevamo solo voglia di vincere Basta In campo che hanno messo Soprattutto quello Sì E tra l'altro Questo gol è stato rapido Siete stati molto abili A cogliere così Il pallo Diciamo nel momento in cui Sai Il fuorigioco del Milan Lì Le avete infilati benissimo Ma comunque Quindi siamo riusciti a battere Una delle squadre più forti d'Europa Onore Quindi doppio merito a noi Finalmente la Coppa Italia Ha avuto una finale degna Di questo trofeo E con queste parole di Marocchi Ti restituisco la linea Grazie Franco Io qui in postazione Ho con me Il vecchio cuore rosso nero Buriani Hai sofferto anche tu oggi La partita è stata bellissima Nel corso del primo tempo Il Milan Ha giocato con grande impegno Ma forse non ha la lucidità Di qualche tempo fa Direi che nel primo tempo Sicuramente la Juventus Era Ha avuto qualcosa di più Sotto la porta Fisica e anche mentale Rispetto ai rosso nero Nel secondo tempo Ha uscito molto bene il Milan Ha avuto un paio di occasioni Anche per pareggiare Però Il risultato del campo Grazie a tutti